L'Isvan è che una gara 1 da dimenticare o meglio dovete ripartire dal terzo set perché nei primi due non avete praticamente giocato? Secondo me non dimenticare perché dobbiamo cercare dove possiamo fare meglio. Diciamo che non sarà molto difficile per fare meglio, però dobbiamo studiare e cercare dove possiamo farle male perché loro comunque sono partite molto aggressive, hanno difeso tanto, hanno un muro altissimo e è difficile. Però noi dobbiamo fare meglio. Il vostro attacco stasera ha avuto più di un problema? Sì, perché come ho detto anche brave loro, c'è un muro alto, poi c'è una difesa dietro, non è facile per fare punto, però dobbiamo cercare qualcosa in più per vincere. Cosa potrà cambiare in gara 2 o meglio cosa dovrà cambiare in gara 2 per voi? Secondo me dobbiamo credere che possiamo vincere, dobbiamo iniziare la partita molto aggressiva e farle male dall'inizio perché se loro prendono fiducia crescono ancora di più.